Io amo la corsa e amo lo sport, secondo me come la sottoscritta ce ne sono davvero tanti e unire lo sport a delle manifestazioni, a dei momenti di incontro e di aiuto trovo che sia una cosa bellissima, per cui partecipate numerosi io ho già partecipato alla Milano Marathon, il 21 di maggio sarò in prima linea per correre questi 10 km e alla portata di tutti perché c'è la 10 km, c'è la 5, c'è quella anche da 1 per cui possiamo anche portare i bimbi e fargli vedere il bellissimo mondo dello sport di una giornata insieme mi raccomando, partecipate!